un saluto da brunico oggi sono qui alla stazione direzione san candido quindi una giornata sulle piste da sci e come ho detto già la mia destinazione oggi è san candido e mi viene in mente ma qual è la destinazione nella nostra vita siamo noi a determinarla o a volte già stata determinata e quindi siamo noi a costruire giorno per giorno la nostra destinazione il nostro viaggio verso ciò che vogliamo ottenere verso quello che è il nostro risultato comunque verso ciò che ci piace a fare e ci piace avere e quindi il pensiero corre sul fatto di mi diverto durante il viaggio perché sicuramente la destinazione è importante ed io credo che il viaggio sia ancora più importante se io riesco ad avere un viaggio confortevole appunto divertendomi essendo creativo fattivo di nuove esperienze sicuramente quando raggiungerò la destinazione il risultato sarà veramente appagante ma concettualmente è il viaggio che deve essere il nostro modo di interpretare anche come arrivare alla destinazione quindi per me goditi il viaggio e la destinazione sarà veramente qualcosa di appagante per te qualcosa che ti darà molta molta soddisfazione nella vita e con questo ti saluto a presto ciao